Un'operazione da un miliardo di euro, definita all'inizio della settimana. Conad ha comprato quasi tutte le oltre 1600 attività italiane di Oshan. In pratica, ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Oshan e Simpli. L'obiettivo è quello di migliorare la rete di distribuzione attraverso una catena finora complementare. Il gruppo che nascerà una volta ultimata la fusione avrà un giro d'affari da circa 17 miliardi di euro. Oshan è infatti il quinto operatore della grande distribuzione in Italia, con una quota di mercato del 6% e un giro d'affari di 3,7 miliardi di euro nel 2018. I suoi dipendenti sono 18 mila. Conad nel 2018 ha generato ricavi per 13,4 miliardi di euro in circa 3.300 negozi. Il nuovo gruppo punterà ancora di più sulla distribuzione locale e sui clienti, con nuove strategie di approccio, per una di queste sperimentazioni, Conad in provincia di Frosinone ha selezionato il punto vendita di Casamari, gestito dai fratelli Diamanti. Ha realizzato in via sperimentale un'asta del pesce, un po' come accade nei porti quando i pescatori rientrano. È il Conad che ci ha onorato di questa scelta, tra i punti vari che Conad ha in provincia. Per adesso è l'unico evento che si fa in zona e ne siamo orgogliosi e gradi a Conad che ci ha scelto per questo evento. L'obiettivo è quello di fidelizzare una nuova fetta di clientela. È il nostro pane quotidiano, noi cerchiamo in tutti i modi di curarli, in tutti i modi. Il progetto avviene prima della effettiva fusione, che porterà il nuovo colosso ad una quota di mercato del 19% circa. Ci è sembrato il punto vendita ideale per fare questo evento organizzato da noi, dove presenteremo un pesce prevalentemente locale, perché ci batteremo sui litorali e presenteremo un prodotto che partirà dal litorale di Terracina fino a Fiumicino, dove noi facciamo approvvigionamenti proprio per Conad. E soprattutto far conoscere alla clientela dei prodotti che oggi sui banchi del pesce sono insoliti, perché ormai si vedono soltanto rate e spigole, sempre le stesse referenze. Noi abbiamo portato un bellissimo pesce a basso prezzo, perché costa poco e soprattutto italiano.